Montesano sulla Marcellana, ultimi mesi di amministrazione Volentini, l'assessore Dalvano Traccio, un bilancio delle attività. Pertosa ha decisa la razionalizzazione per l'unico ufficio presente, domani conferenza stampa per dire no alla decisione di poste italiane. Teggiano, il 5 settembre, il convegno Tumori e Timori, promosso dall'Associazione Angela Serra. Padula, ieri sera nei giardini della Certosa di San Lorenzo, lo spettacolo Mogol racconta Mogol, organizzato dall'Associazione Libera Talento. Sport Salernità nel mercato si chiude con una rivoluzione. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione con l'informazione di Uno News. Apriamo con la politica a Montesano ultimi mesi di amministrazione Volentini ed è tempo già di bilanci per questi anni trascorsi, a fare i conti con i pochi fondi a disposizione e le battaglie da combattere a Montesano. L'assessore Michele Dalvano si dice comunque soddisfatto dei risultati raggiunti, seppur con notevoli difficoltà. Per il comune di Montesano sulla Marcellana sono partiti gli ultimi mesi di amministrazione Volentini. Il prossimo maggio si andrà a votare per eleggere il nuovo Consiglio Comunale. Si traccia un bilancio di questi anni di amministrazione che dal 2011 hanno visto alla guida del paese Donato Fiore Volentini. Difficile amministrare con le difficoltà economiche che in questi anni sono stati costretti a riscontrare in tutti i comuni, dove i fondi sono pochi ma le tasse ai cittadini aumentano. Garantire i servizi essenziali è stato compito a Arduo laddove dal governo arrivavano input che costringevano i comuni ad aumentare le tasse in modo esponenziale per riuscire ad ottenere qualche introito vista anche la riduzione dei trasferimenti proprio da parte dello Stato. Per l'amministrazione Volentini poi è stata una continua trincea viste le diverse battaglie che si sono trovate a dover affrontare prima fra tutti la realizzazione di una stazione elettrica in pieno centro cittadino a poca distanza dalle scuole e altri edifici frequentati dai bambini. Pur nelle enormi difficoltà affrontate, l'amministrazione comunale montesanese guidata da Donato Fiore Volentini si dice comunque soddisfatta del lavoro svolto. Soprattutto l'assessore al turismo Michele Dalvano che sottolinea come nonostante la difficoltà di intervenire si sente in grado di affermare di aver comunque conseguito buoni risultati. Questa amministrazione da cinque anni a questa parte comunque ha fatto tanto lo sappiamo benissimo che con le condizioni in cui viviamo le leggi che viviamo generalmente con lo Stato, con il governo non possiamo affrontare risultati che vorremmo però non ci possiamo lamentare perché abbiamo dato degli ottimi risultati e penso di aver avuto ottime condizioni per arrivare a questo punto e dare un'ottima impressione di questa amministrazione. E torniamo ora sulla spending review posta in essere da poste italiane domani pomeriggio a Pertosa si terrà una conferenza stampa da parte del sindaco di Pertosa Michele Caggiano e della sua amministrazione comunale per dare il via ad una mobilitazione contro la decisione di poste italiane di razionalizzare e quindi ridurre gli orari e i giorni di apertura dell'unico ufficio postale presente a Pertosa. Sembra che anche l'unico ufficio postale presente a Pertosa sia prossimo a subire una decisa razionalizzazione del servizio rientrando tra i 638 uffici postali che subiranno una drastica riduzione dell'orario e dei giorni di apertura al pubblico. Una decisione quella assunta da poste italiane che lascia perplesso e indispettito il sindaco Michele Caggiano che ha deciso di indire una conferenza stampa per domani pomeriggio presso il comune di Pertosa alle ore 17 nel corso del quale intende ribadire la sua ferma opposizione a questa riduzione di servizio. La notizia dell'imminente razionalizzazione dell'ufficio postale a Pertosa che porterà a dover usufruire a giorni alterni del servizio suscita notevoli perplessità laddove peraltro sono completamente assenti anche sportelli bancari che potrebbero sopperire alle difficoltà in particolare per gli anziani chiamati a riscuotere la dovuta pensione. A lasciare essere i fatti è anche il metodo con il quale tale decisione è stata assunta dai vertici di poste italiane che sembra abbiano tenuto in pochissimo conto delle esigenze dei cittadini di Pertosa costretti per le emergenze a recarsi addirittura in un altro comune non soltanto in un altro ufficio postale. Ancora una volta poi così come accade anche per l'ufficio di Arena Bianca di Montesano che però a differenza di Pertosa subirà la chiusura la decisione è stata dettata con la valutazione delle distanze a linea d'aria e non sull'effettivo percorso stradale che allunga notevolmente il tragitto. Pur essendo infatti a linea d'aria vicinissimi sia Pertosa che località Arena Bianca con i centri in cui sono ubicati gli uffici postali più vicini le difficoltà per raggiungerli sono notevoli e di sicuro non possono essere percorsi a piedi o in bicicletta ma necessitano di servizi di trasporto efficienti e continui che sono invece decisamente carenti o meglio inesistenti. Su queste basi il sindaco di Pertosa Michele Caggiano ha deciso di dare il via ad una contestazione verso poste italiane al fine di evitare che un'intera popolazione risulti depotenziata su un servizio essenziale come quello dell'ufficio postale. Domani alle ore 17 presso la sede del Comune il primo cittadino e la sua amministrazione in conferenza stampa parleranno nello specifico delle motivazioni che spingono verso una mobilitazione contro questa decisione. Il prossimo 5 settembre a partire dalle ore 16 presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo di Teggiano si terrà il primo convegno Tumori e Timori promosso dall'associazione Angela Serra un incontro che dopo l'introduzione di Barbara Adalvano vedrà la presenza del sindaco di Teggiano Rocco Cimino del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro il monsignor Antonio De Luca del dottoressa Valentina Di Domenico psicoterapeuta familiare del professor Massimo Federico professore ordinario di oncologia medica all'università di Modena e Reggio Emilia della dottoressa Bianca Serio ematologa dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e ancora Arturo Iannelli presidente dell'associazione Angela Serra sezione di Salerno e della dottoressa Anna Lisa Giordano nutrizionista oltre che dell'avvocato Giuseppe Dalvano dalle ore 19.30 di battito e poi saluti finali dell'associazione Angela Serra e del convegno che si terrà a Prato Perillo sabato 5 settembre ne abbiamo parlato con Arianna Delia e Barbara Adalvano referenti del Vallo di Diano per l'associazione Angela Serra L'associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro nasce a Modena nel 1987 per onorare un giovane medico Angela che ha perso la vita a soli 29 anni a causa di un tumore il 19 novembre del 2003 in favore dell'apertura di una sede autonoma anche a Salerno il 22 aprile 2005 viene inaugurata la sede a Salerno alla memoria di Luana Basile un'altra giovane ragazza di cui ha perso la vita a soli 21 anni a causa di un tumore a settembre del 2005 il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il primo importante progetto il telefono oncologico attivo ufficialmente dal 1 gennaio 2008 ma che da settembre 2005 a gennaio 2008 ha comunque dato sostegno a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta il primo convegno oncologico che si terrà precisamente presso la casa parrocchiale Pier Giorgio Frassati a Prato Perillo ha il titolo proprio Tumori e Timori questo titolo vuole spiegare quello che è il senso del nostro convegno nel senso che come è stato detto l'Angela Serra è un'associazione che punta molto del suo tempo su quello che è il ruolo che deve interessare la prevenzione allora questo nostro convegno vuole spiegare quelle che sono le nostre anzi vuole anticipare quelle che saranno le nostre future idee sulla prevenzione nel Vallo di Diano infatti circa un mese fa sono state organizzate delle visite senologiche e il 18 settembre abbiamo un altro incontro dove saranno organizzate altre visite senologiche ma questo è solo un punto in quanto comunque si vuole organizzare anche altri tipi di visite che possono essere ematologiche pap test e così via proprio per portare la prevenzione nel Vallo di Diano perché è importante sapere che al giorno d'oggi una malattia oncologica se presa in tempo non è la malattia oncologica di un tempo nel senso che io mi auguro come auspicio che in un futuro che non sia troppo lontano il cancro come dice una canzone di un noto cantante che si chiama Alex Baroni resti solo un segno zodiacale perché questa frase perché la scelta quindi di organizzare questo convegno è un poco tutto ciò che ho detto finora ovvero quello di anche sensibilizzare il nostro il nostro il posto dove viviamo e quindi far capire alle persone il rapporto che ci deve essere non solo con la malattia ma soprattutto con i pazienti infatti il nostro oncologo che sarà presente che si chiama Massimo Federico come tema del suo dibattito ha scelto dalla parte del paziente come tema della sua relazione ha scelto dalla parte del paziente proprio per spiegare il rapporto che ci deve essere che questo convegno non è un convegno dove è un convegno per i medici ma è un convegno per le persone per chi è stato paziente o per chi è stato purtroppo familiare di una persona che ha subito una cosa del genere e quindi far sensibilizzare le persone e dimostrargli che c'è un aiuto che può essere non solo un aiuto dal punto di vista della ricerca ma anche un aiuto psicologico infatti vi sarà presente anche una psicologa come una nutrizionista quindi un convegno a tutto tondo dove noi vogliamo spiegare quelli che sono i punti fondamentali sì nella ricerca ma anche tra virgolette nel rapporto che si deve avere con un malato di cancro con un malato oncologico perché un malato oncologico non è una limitazione nel senso che è una persona che soffre di questa patologia non perciò non per questo è limitato la sua vita continua deve continuare e lui per primo deve accettare e deve combattere vi ricordo che l'appuntamento è fissato per il 5 settembre alle ore 16 presso la casa parrocchiale per Giorgio Frassati e passiamo ora alla scuola ma soprattutto all'istruzione ieri giorno intenso per la scuola campana è stato infatti accolto in parte il ricorso presentato da 4800 insegnanti che erano stati esclusi dalle graduatorie a esaurimento e perciò tenuti fuori anche dal piano di assunzioni per la buona scuola pubblicati sul sito del Miurro e inoltre l'elenco di quanti hanno i titoli per essere assunti in qualità di dirigenti scolastici mentre dall'ordine dei geologi arriva un allarme sono oltre 4500 le scuole campane situate in zona ad alto rischio sismo idrogeologico vediamo una giornata intensa di decisioni importanti per la scuola campana infatti in mattinata ieri il consiglio di stato ha accolto in parte il ricorso presentato dai circa 4800 maestri campani di fatti il piano straordinario di assunzioni va riscritto in due settimane per la parte riservata all'infanzia e alle scuole elementari i 4800 maestri erano stati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento e perciò tenuti fuori anche dal piano di assunzioni per la buona scuola nonostante una prima ordinanza del consiglio di stato lo scorso 11 marzo imponesse di inserire in via cautelare i maestri nelle graduatorie ad esaurimento protagonisti del colpo di scena sono stato quindi migliaia di maestri precari persone con un diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 in serata il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini ha ammorbidito la sentenza annunciando che nessuna graduatoria sarà rifatta tuttavia il consiglio di stato ha dato al ministero 15 giorni per dare esecuzione all'ordinanza il secondo capitolo della scuola invece riguarda la nomina dei nuovi presidi nelle scuole campane sul sito del miur campani infatti sono stati pubblicati gli elenchi di quanti hanno i titoli per essere assunti in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono 212 candidati che presto saranno incasellati in altrettante scuole o gruppi di scuole della campania in tutta questa situazione infine ci sono le parole del coordinatore della commissione di protezione civile dell'ordine dei geologi della campania che evidenzia come nella nostra regione 4.600 scuole si trovino in aree potenzialmente ad elevato rischio sismico e ha sottolineato l'esigenza di adeguarle a norme antisismiche e soprattutto di informare i cittadini in questo senso è stata programmata per il 6 settembre la giornata nazionale sui georischi voluta dal Consiglio Nazionale dei Geologi dove si mostrerà ai cittadini la carta geologica dei georischi in campania ma sono previste tante altre attività per informare dei rischi e andiamo ora a Salerno cambio al comando del 19esimo reggimento guide di Salerno il colonnello Angelo Malizia lascia l'incarico al colonnello Sepe Malizia ricoprirà un prestigioso incarico allo Stato Maggiore della Difesa a Roma il colonnello Angelo Malizia lascia il comando del reggimento guide 19esimo di Salerno per un nuovo prestigioso incarico allo Stato Maggiore della Difesa a Roma a prendere il posto di Malizia al comando delle guide arriva il colonnello Carmine Sepe valoroso ufficiale dell'esercito italiano nato a Nola il 13 aprile 1968 a cui il 27 luglio del 2009 è stata conferita la croce di bronzo al merito per aver assolto con straordinaria motivazione eccezionale professionalità e senso del dovere fuori dal comune l'incarico di assistente del rappresentante militare delle autorità nazionali è sotto capo di stato maggiore di supporto presso il quartiere generale della missione International Security Assistance Force a Kabul in Afghanistan il colonnello Sepe arriva dal comando formazione dottrina di Roma dove per alcuni anni è stato assistente del generale Lops è sposato con la signora Monica che ha due figli Maria Teresa e Andrea per quanto riguarda il colonnello Angelo Malizia un trasferimento che lo porta a svolgere un ruolo di primaria importanza all'interno del sistema di governance delle forze armate italiane la sua grande esperienza maturata in contesti internazionali ultima in ordine di tempo la missione Leonte in Libano ne hanno arricchito la sua grande professionalità un uomo è un ufficiale di grande spessore culturale ed umano al quale lo scorso 9 agosto è stato conferito il premio internazionale ambasciatore di amicizia tra i popoli cultura e storia ad Auletta dove è stato presentato domenica scorsa presso la casa delle parole il libro scritto da Antonio Gagliardi presidente dell'associazione Auletta Terra Nostra dal titolo Auletta ricordi e testimonianze della seconda guerra mondiale non solo una merese semplice raccolta di fatti ma la testimonianza di un periodo di storia della piccola comunità aulettese un lavoro che si inserisce nella più ampia opera di Gagliardi nel tramandare alle future generazioni proprio la storia del piccolo paese valdianese abbiamo raccolto la testimonianza dell'autore del libro che ha spiegato da dove è nata quest'opera e cosa rappresenta ascoltiamolo mi ha spinto a scrivere questo libro l'invito di due amici il dottore Morrone il padre di Auletta lui è nato in America e un altro amico di Cremona che mi ha contattato per vedere se io sapevo qualcosa circa la caduta di un aereo nel territorio di Auletta il 10 agosto il 10 settembre del 1943 quindi in sede a questo invito di questi due amici io ho scritto questo libro in effetti questo libro non si ferma solo all'episodio dell'aereo oppure della bomba che mi parlava il dottore Morrone ma io ho cercato di avvicinare le varie persone anziane di Auletta per vedere e capire i loro ricordi e riportarli su questo libro in effetti è molto vario insomma a parte il periodo della galleria dei bombardamenti ma parla anche di Raffaele Cialorenzo che era un partigiano che fu ammazzato vicino Torino parla di Mario Federico che è un sommergibile alle porte di Tarendon insomma è molto vario oltre poi alle fotografie di tutti non di tutti ma di alcuni militari aulettese che sono morti nella seconda guerra mondiale sì in effetti era proprio per rimanere un ulteriore ricordo a chi verrà dopo di noi di questi avvenimenti perché col tempo poi nessuno ha pensato insomma veramente a trascrivere dei libri e trascrivere come dire quelle notizie che effettivamente i nostri genitori i nostri nonni hanno vissuto quindi ho cercato di rimediare un po' a questa mancanza non è il soldo libro che si fa all'archivio di Stato si fotocopia noi diciamo quello che è successo e si mette qua io ho cercato di avvicinare proprio quelle ultime persone in una certa età e farmi raccontare da loro quello che hanno vissuto anche la copertina faccio un esempio la copertina non le solite copertine questo è un disegno del professore Pugliese che ultimamente ha fatto una mostra di avuletta che rappresenta un po' diciamo quella che è il fulcro centrale del libro la caduta dell'aereo insomma è il pilota salvato dalla gente di avuletta dei carabinieri di avuletta mentre i tedeschi cercavano di catturarlo Bentornati alla seconda parte del nostro TG andiamo a Padula dove ieri sera come annunciato si è tenuto lo spettacolo di Mogol autore dei testi più belli della canzone italiana per artisti che hanno fatto proprio grande la musica italiana presso i giardini della Certosa di San Lorenzo a Padula si è tenuto lo spettacolo Mogol racconta Mogol con la presentazione delle canzoni più belle di Battisti e di altri grandi cantautori della musica italiana che sono con le canzoni interpretate al pianoforte dal maestro Johnny Barbera l'evento è stato fortemente voluto e organizzato dall'Associazione Libera Talento grazie alla collaborazione all'impegno del direttore artistico Gregorio Fiscina prima del concerto Mogol è stato ospite dell'hotel Villa Cosilinum di Davide Cancellaro dove noi lo abbiamo raggiunto per una breve intervista abbiamo inoltre raccolto anche le parole del presidente dell'Associazione Libera Talento Angelo Caputo che parla anche delle motivazioni che hanno spinto verso la realizzazione dello spettacolo se vuole sapere che cosa penso quando scrivo le dico subito che io cerco di capire il senso della musica ossia cosa sta dicendo questa musica e quindi dire quello che potrebbe dire qualcuno che forse voleva dire il musicista senza esprimerlo per cui io uso questa tecnica ma deve avere lo stesso senso musica e parole quando hanno lo stesso senso hanno una grande sinergia è una storia molto lunga non la posso raccontare adesso se no facciamo notte e non mangio ecco no ma il discorso dell'arcobaleno è un discorso che non avrei mai parlato di questo discorso se non fosse venuto un giornalista del Tg1 che mi conosce e sa che non dico non posso mentire mi ha detto è vero quello che quello che abbiamo letto su l'arcobaleno di Francesco Salvatore un libro e io ho detto sì è vero Libera Talento sì finalmente la serata è arrivata insomma abbiamo lavorato tantissimo abbiamo speso energie a non finire il progetto infatti è all'inizio per il percorso musicale perché Libera Talento è già attiva con altre categorie insomma di attività quindi la scuola calcio già sta percorrendo già sono due anni che esiste insomma e che abbiamo avuto ottimi risultati tornando al maestro Mogol è sicuramente diciamo il punto di riferimento che ci consentirà di perseguire l'obiettivo senza permetterci errori cioè è quello che dovremmo cercare di fare portare avanti una scuola nel Vallo di Diano se si può dire che abbia le caratteristiche e le peculiarità di insegnare ai ragazzini ai ragazzi a chi ne abbia voglia la musica fatta per bene nelle emozioni appunto che poi sono condivise da tutti quindi ecco sono molto molto contenta di questo invito perché anche la mia vita in qualche modo e restiamo a Padula perché torna con la quattordicesima edizione il premio internazionale Gio Petrosino dedicato alle personalità che si sono maggiormente distinte nel corso della loro vita in azioni sulla di legalità e di repressione dei reati di ogni genere lunedì 7 settembre presso la Certosa di San Lorenzo a Padula l'evento che vuole anche essere un momento di ricordo della personalità del polizzotto statunitense originario di Padula che morì sotto i colpi della mafia siciliana la manifestazione avrà inizio alle ore 10 e vedrà la presenza di numerose personalità di spicco dopo i saluti del sindaco Paolo Imparato di Nino Melito Petrosino pronipote di Gioe Petrosino e di Vincenzo Lamanda presidente dell'associazione internazionale Gioe Petrosino sono previsti gli interventi di Paola Totti militante antimafia pronipote di Enrico Totti e di Dino Giacalone giornalista i premi di questa 14esima edizione saranno assegnati a comandante Alfa del gruppo intervento speciale dei carabinieri Ignazio Cutro presidente dell'associazione nazionale testimoni di giustizia e del giornalista Sandro Ruotolo l'incontro sarà moderato dal giornalista Rocco Brancati e cambiamo argomento ci spostiamo a Teggiano dove si terrà venerdì 4 settembre la serata di festa e spettacolo inizialmente prevista lo scorso agosto del Montepruno Summer l'evento dedicato a presentare i risultati raggiunti nei primi sei mesi del 2015 dall'istituto di credito diretto da Michele Albanese resta invariato il programma con grandi ospiti dello spettacolo e giovani talenti del territorio che si alterneranno sul palcoscenico allestito nella splendida location del castello Macchiaroli di Teggiano Si terrà venerdì 4 settembre la serata speciale organizzata dalla Banca Montepruno a Teggiano con il Montepruno Summer per festeggiare i risultati conseguiti nel 2014 confermatisi nei primi mesi del 2015 L'evento doveva tenersi lo scorso 21 agosto ma a causa del maltempo non è stato possibile la realizzazione dello straordinario spettacolo previsto per la serata nella suggestiva location del castello Macchiaroli Un forte legame unisce la Banca Montepruno con il comune di Teggiano luogo in cui nel 1998 l'istituto di credito aprì la seconda filiale dopo la prima inaugurata a Piaggine nel 1992 Da quel momento in pochi anni si registrò un rapido accrescimento della fiducia dei risparmiatori nell'istituto di credito diretto da Michele Albanese tanto da risultare necessario un ampliamento della rete di sportelli e filiali su tutto il territorio valdianese raggiungendo anche i territori limitrofi della Basilicata fino ad arrivare all'apertura di un'ampia e funzionale sede a potenza peraltro in una centralissima area del capoluogo di regione dall'arrivo della Banca Montepruno a Teggiano sono stati tanti risultati raggiunti e festeggiati dall'istituto di credito e da quanti in esso lavorano ed è proprio per condividere con la città museo del Vallo di Diano gli ultimi risultati raggiunti a cui si aggiunge anche l'apertura di uno sportello ATM nel centro storico tegianese che la Banca Montepruno ed in primisi il direttore Michele Albanese hanno deciso di regalare una serata di feste e divertimento a quanti hanno contribuito alla crescita dell'istituto di credito di Roscigno che con il suo arrivo a Teggiano ha anche contribuito a rafforzare e a rendere indissolubile il legame tra i territori degli Alburni e del Vallo di Diano venerdì 4 settembre quindi Alburni e Vallo di Diano si ritroveranno nella bellissima e suggestiva location del castello Macchiaroli di Teggiano per uno spettacolo all'insegna della musica e del divertimento con il Montepruno Summer Resta invariato il programma che era stato fissato per il 21 agosto con l'apertura della serata affidata al dottor Cono Federico responsabile area direzione della Banca Montepruno che presenterà al pubblico i risultati raggiunti dall'istituto di credito nei primi sei mesi del 2015 Si passerà poi alla serata di spettacolo sotto la magistrale conduzione di Antonio Mastrandrea responsabile della comunicazione Banca Montepruno e della bravissima Anna Maria Sodano sul palco saliranno grandi artisti nazionali che si alterneranno alle giovani promesse locali accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Antonello Cascone arrangiatore del grande maestro Andrea Bocelli sul palco scenico saliranno Ilenia Cimino il giovane flautista del nostro territorio che ha già raggiunto ottimi risultati a livello internazionale e Rino Tufano il giovane cantante di Sant'Arsenio che con il supporto della Banca Montepruno è riuscito ad essere allievo di Mogol Alcet inoltre la serata sarà impreziosita dalla presenza del gruppo di soprani Le Loving composto da Anna Picerno Doro Timanzo e Antonia Terracciano che si alterneranno sul palco con l'attore Sasà Trapanese e la sirante e straordinario spettacolo dello showman Gino Riviecio la serata prenderà il via alle ore 20 e 30 e passiamo ora allo sport con il calcio ieri ultimo giorno di calcio mercato e in attesa della prima gara di campionato in programma per domenica prossima nel derby con la Salernitana impegnata nel derby contro l'Avellino per la quale peraltro è previsto il pubblico delle grandi occasioni quest'ultimo giorno del mercato calcistico ha rivoluzionato totalmente la Salernitana infatti la squadra perde uno dei protagonisti della promozione dello scorso anno Gaetano Khalil e prende il cecchino ex Teramo Alfredo Donnarumma vediamo ultimo giorno di mercato frenetico per la Salernitana il direttore Fabiani è impegnato tutto il giorno per perfezionare acquisti e cessioni a mister Torrente sono stati regalati altri elementi per completare la rosa mentre in quattro hanno lasciato la casacca Granata per sposare altre realtà partiamo con ordine nell'asse con il Catania la società Granata ha perfezionato uno scambio che porta il portiere Frison e il giovane centrocampista classe 96 Moses Odier in Granata Frison arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto mentre Odier con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Catania sotto l'Etna invece sono andati a titolo definitivo Caetano Khalil protagonista lo scorso anno della promozione dei Granata Luca Diverani estremo difensore e Andrea Russotto giunto di Granata quest'estate a parametro zero in prestito alla Paganese invece sono andati Antonio Grillo e Antonio Martiniello mentre per completare la squadra il direttore Fabiani ha preso dal Teramo l'attaccante classe 90 Alfredo Donnarumma che ha firmato un triennale e il difensore centrale brasiliano ex primavera della Fiorentila Alan Ampereur infine a parametro zero arriva l'esterno offensivo svincolato Milinkovic ex Ternana nella casella degli over i Granata sono in 17 quindi resta un posto libero per Francesco Lodi che ieri si è svincolato dal Catania e da oggi può accordarsi con qualsiasi squadra intanto il gruppo agli ordini di mister Torrente prosegue la marcia di avvicinamento al debutto stagionale contro l'Avellino in programma domenica prossima alla Rechi dove si attende il pubblico delle grandi occasioni infatti nella sola giornata di ieri sono stati staccati oltre 2500 tagliandi e con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.